Oroscopo del giorno, lunedì 8 novembre 2021 Ariete Amore, la settimana inizierà con un lunedì un po' altalenante e così potrebbero essere pure i prossimi giorni. Questa nuova giornata potrebbe essere piacevole per molti ma spiacevole per tanti. Le stelle non vi incoraggeranno troppo. Lavoro, situazione molto simile sul posto di lavoro ma non dovrete arrendervi di fronte alle prime difficoltà. Toro, amore, non vi sentirete del tutto al top e potreste avere anche diversi dubbi nei confronti della persona che avete vicino. Queste incertezze potrebbero arrivare sia per chi ha una relazione stabile che per chi sta iniziando una conoscenza. Lavoro, attenzione a come gestirete le entrate ma soprattutto le uscite. Dovrete controllare meglio. Gemelli, amore, lo stato d'animo non sarà dei migliori ma nonostante questo dovrete essere determinati soprattutto in un rapporto importante. Sarà una giornata interessante per molti single e per chi vuole fare un passo in più. Lavoro, la stanchezza inizierà a farsi sentire e siamo ancora a lunedì. Calma con gli impegni. Cancro, amore, questa nuova settimana di novembre partirà con un giorno interessante. Inizierete a riflettere su determinate situazioni e sulle persone che avete al vostro fianco. Cercherete quindi di trarre alcune conclusioni. Lavoro, voglia di novità e qualche cambiamento potrebbe essere già iniziato. Potreste pensare al futuro professionale. Leone, amore, sarà una giornata abbastanza ricca di sentimenti per chi ha una storia d'amore all'attivo. Pure i single potrebbero farsi prendere dal romanticismo ed alcune nuove complicità. Le emozioni difficilmente mancheranno. Lavoro, potrebbero esserci piccoli problemi ma affrontarli e superarli non dovrebbe essere troppo difficile per voi. Vergine, amore, occhio a quelle storie che stanno iniziando a diventare un po' piatte, quasi noiose. Potrebbero esserci piccoli dubbi ma se ci tenete davvero al partner non ci sarà da tenere. Novità in arrivo per qualche single. Lavoro, le energie oggi potrebbero essere un po' basse. Vi converrà gestirle al meglio per non avere problemi. Bilancia, Amore, per le coppie potrebbe essere una giornata difficile in amore. Qualche novità potrebbe arrivare invece per i single che sono soli da tanto tempo. Se aprite il vostro cuore potrete davvero emozionarvi. Lavoro, non così bene per il lavoro perché potrebbero esserci un po' di energie basse e qualche piccolo imprevisto. Scorpione, Amore, Occhio a quelle storie che non stanno vivendo un momento sereno e semplice. In questo momento potrebbero esserci riflessioni, decisioni da dover prendere. Non tutte le persone vicine sono quelle giuste per voi e questo varrà anche per i single. Lavoro, Già da questo lunedì potrebbero iniziare ad esserci delle interessanti novità per il lavoro. Tagittario, Amore, Sarà meglio che facciate attenzione al vostro istinto che oggi potrebbe complicare i fatti ma soprattutto i rapporti. Pensare prima di agire e prima di parlare potrebbe essere dunque un passo fondamentale. Lavoro, L'istinto sarà da curare pure in ufficio. Qualcuno dovrà mettersi in sesto. Serviranno parecchie energie. Capricorno, Amore, E' molto probabile che vi serva del tempo, non solo in una storia o in una nuova conoscenza, ma anche del tempo da dedicare a voi stessi. Chissà che non riusciate a pensare per un attimo alla vostra persona già da questo lunedì. Lavoro, Discorso simile sul lavoro. Qualcuno potrà godersi una pausa dai tanti impegni professionali. Acquario, Amore, Lo stato d'animo di oggi non sarà al top, anche perché vi sentirete un po' più stanchi del solito. Dovrete cercare di stare tranquilli e questo varrà chiaramente anche per le storie d'amore, per i nuovi rapporti che stanno iniziando. Lavoro, Calo di energie anche per quanto riguarda il lavoro. Ci vorrà una certa forza. Pesci, Amore, Con il partner potrebbero nascere delle discussioni o addirittura dei litigi. Attenzione, Il piano amoroso per i single è un po' piatto, Forse dovreste aprirvi un po' di più se siete interessati a qualcuno. Lavoro, A livello economico non ci saranno belle novità, un certo stress da dovere gestire. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.